Musica Due anni di tempo per camminare sul nuovo lungolago di Lecco. A realizzarlo sarà l'impresa Foti di Bulgaro Grasso in provincia di Como che si è giudicata ai lavori di riqualificazione previsti nel progetto Waterfront e la contestuale costruzione dell'itinerario ciclopedonale che scorrerà accanto al lago, dalle caviate al bione. Un'opera finanziata per 6,7 milioni con i fondi del PNRR e con un milione da Regione Lombardia per la ciclabile. La gara d'appalto europea si era chiusa lo scorso 29 giugno e in queste ore Palazzo Bovara ha pubblicato sull'albo pretorio il nome della società aggiudicataria fra le tre partecipanti. L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per un importo contrattuale netto di 6.814.531,79 euro. Ora la società ha a disposizione 45 giorni per predisporre il progetto esecutivo e 734 per la consegna dei lavori conclusi. Sarà invece la balagussa, cave e calcestruzzi di Merato a occuparsi della monifica dell'aria. L'intervento sarà realizzato in più fasi, in segmenti autonomi e con collaudi progressivi per generare meno disagi possibili. Si partirà dal tratto centrale dell'attuale Lungolago di fronte a Piazza Cermenati. Le tempistiche esatte si conosceranno con il progetto esecutivo, ma i lavori dovranno comunque concludersi entro marzo 2026. Un intervento di riqualificazione importante, che darà un nuovo volto e una migliore furibilità del Lungolago a cittadini e turisti, spiega l'assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi. Dani è ferma, ma forse questa è la volta buona. Si apre uno spirale o per una delle opere più attese del nostro territorio. Il tunnel di San Gerolamo, secondo l'otto della nuova Lecco Bergamo, inserito fra le opere strategiche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. È in corso di perfezionamento il piano delle opere olimpiche, che dovrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel piano rientra anche la variante di Vercurago, per la quale oggi è previsto un costo complessivo di 253 milioni di euro. Il piano economico del progetto iniziale, varato nel 2009, si aggirava intorno ai 90 milioni di euro. Il tunnel, che dovrebbe collegare chiuso alla frazione Pasquano di Canozio-Corte, era in carico all'amministrazione provinciale di Lecco. Ora, dopo svariati problemi al cantiere, è finito di competenza di Anas. Il Vice-Premiere Ministro Matteo Salvini, si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è determinato affinché vengano realizzate nei tempi stabilite tutte le opere ricomprese nel piano. Dunque anche la Lecco Bergamo, una nota che accoglie con favore il Sottosegretario regionale Mauro Piazza. Il Ministro Salvini dimostra interesse e dichiara per le infrastrutture strategiche del nostro territorio, con pragmatismo e concretezza, dando risposte su un'opera di primaria importanza per la nostra provincia, come la Lecco Bergamo. Il Ministro prosegue Piazza, sta assicurando un monitoraggio costante che va di pari passo con le procedure commissariali che procedono nonostante quanto viene sostenuto da altri esponenti politici. Nel mese di settembre, conclude Sottosegretario Piazza, verrà convocata la Conferenza dei Servizi e si procederà a determinare il quadro economico e progettuale definitivo. Regione Lombardia e provincia di Lecco seguono costantemente lo sviluppo dell'Ita. Ultimo weekend da Bollino Rosso. Le vacanze stanno per concludersi per migliaia e migliaia di italiani. Il fine settimana alle porte è il primo di controesodo. Si stima che nelle giornate di sabato e domenica saranno 11 milioni i veicoli complessivamente in movimento sulla rete stradale italiana. Il Bollino Rosso scatta dal pomeriggio di venerdì 25 agosto fino a tutta la giornata di domenica 27. Fra le strade più attenzionate dall'ANAS in Italia c'è anche la Super 36. I numeri sono eloquenti. Lo scorso fine settimana sono transitati 126 mila veicoli ad esio in provincia di Monza, circa 120 mila lecco, oltre 91 mila da Badia e 26 mila nel tratto ricadente in provincia di Sondrio. Numeri che confermano il trend di crescita registrato a livello nazionale rispetto allo scorso agosto. I dati indicano un aumento del 2%, più 2,7% nei giorni feriali, meno 1,6% nei giorni prefestivi e più 1,9% nei giorni festivi. Del traffico, numeri che sottolineano un maggior spostamento quest'anno nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare si registra un aumento del 4% nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 13 agosto, rispetto allo stesso fine settimana dello scorso anno. Massima attenzione dunque alla giornata di domenica. Per agevolare il rientro, ANAS ha sospeso i cantieri aperti nel weekend anche lungo la 36, bloccata la circolazione dei mezzi pesanti sabato 26 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 27 agosto dalle 7 alle 22. Resta attivo nella nostra provincia il piano di emergenza in caso di rallentamenti, piano che a differenza dello scorso anno, quest'estate, nonostante l'aumento dei volumi di traffico, non è mai entrato in funzione. 14 pallavoliste, 22 anni, l'età media, sono gli atleti della pallavolo Lecco Alberto Picco che scenderanno in campo nel Palazzetto del Bione per la stagione 2023-2024 del campionato di Serie A2. Riconfermato alla guida Gianfranco Milano, ormai da diversi anni coach della prima squadra. Con la Picco ormai si è creato un bel feeling e quindi è facile instaurare subito nuovi progetti per cui anche quest'anno ci siamo trovati in sintonia su quello che può essere il tipo di campionato da fare e per necessità o per scelta abbiamo dovuto cambiare tante ragazze. Questo sarà uno stimolo per noi perché vogliamo ricreare di nuovo un gruppo vincente dal punto di vista sia come squadra, come risultati e anche dal punto di vista proprio morale. Esordiamo con un'anno promossa che è già una nostra conoscenza della B1, Costa Volpino. Esordire in casa sicuramente è una bella responsabilità, però ci faremo trovare pronti per l'inizio per salutare il pubblico e augurarsi insieme un po' il campionato. Solo due le atlete riconfermate dal team dell'anno scorso, l'alzatrice Rebecca Rimoldi e la centrale Federica Piacentini, ma ci sono tutte le premesse per scendere in campo l'8 ottobre con un gruppo affiatato. Per un atleta vedere la fiducia della società riconfermata per un altro anno significa non tanto di più. L'anno scorso è stata una bella stagione, eravamo un bel gruppo, abbiamo lavorato sodo, lo staff tecnico è cambiato di poco in realtà, qualche modifica formale, quindi sono convinta che potremmo fare un gran bel lavoro. Ci stiamo iniziando a conoscere un po', ovviamente è difficile parlare, non si può parlare ancora di squadra, come ha detto Gian, è più un gruppo di lavoro e dobbiamo cercare un po' di coesione, però secondo me abbiamo tutte le carte per far bene, insomma. Secondo me abbiamo alzato tanto il livello in questi ultimi anni come Serie A2 in generale. Siete pronti ad affrontare tutti però? Assolutamente sì! Gian ha il telefono, questo è stato mi ha trasmesso entusiasmo, voglia di lavorare, ho delle buone sensazioni, il gruppo è positivo, l'ambiente di lavoro anche, c'è tanta disponibilità che secondo me è fondamentale nella parte di preparazione. Che cosa ti auguri per te stessa per questa stagione? Innanzitutto di crescere ancora tecnicamente, cercare di rubare il più possibile da consigli dell'allenatore, da ragazze che hanno tante esperienze e poi di fare un buonissimo campionato perché secondo me ci sono tutte le carte per farlo. Si scaldano i motori per la seconda edizione del MedFest, festival del Medioevo che quest'anno animerà le province di Lecco e Monza Brianza dal 1 al 23 settembre. Nato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-artistico del Medioevo attraverso iniziative culturali, la rassegna è promossa dall'Associazione Res Musica sotto la direzione artistica di Ancilla Uggioni, Angelo Rusconi e Gerolamo Fazzini e con il contributo di numerosi enti, realtà e comuni dei territori di Lecco e Monza Brianza. 19 le proposte in calendario per quest'anno, fra concerti musicali, spettacoli teatrali, incontri e proiezioni cinematografiche, appuntamenti dall'impostazione storico-scientifica ma anche proposte innovative per mettere in dialogo passato e presente, fra le novità l'approfondimento di temi particolari quali la visione medievale dell'Apocalisse e l'arte dei giullari. Gli eventi si svolgeranno in edifici sacri e non, ma anche nelle piazze e nelle strade con l'intento di offrire a tutti l'opportunità di avvicinarsi ai temi trattati dal festival. La rassegna prenderà il via il 1 settembre alle 21 alla chiesa di San Giorgio a Mandello dell'Ario con il concerto di canti del culto mariano del Mediterraneo Maria Nostra a cura dell'Ensemble Irini, diretto da Lila Iosi. Concerto che si ripeterà poi il 3 settembre alle 17 alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo in Agliate a Carate Brianza. Giovedì 7 alle 21 a Palazzo delle Paure Alecco la conferenza di apertura a Mar Calada quando l'America aveva un altro nome, con Paolo Chiesa, mentre venerdì 8 alle 21 il concerto inaugurale, il canto della Sibilla, l'Apocalisse nelle tradizioni medievali con Eugenia Misano e musica Round Ensemble, diretto da Vera Marenco nella suggestiva cornice della chiesa di San Giovanni ai Morti alla Orca Alecco. Il festival proseguirà quindi fino al 23 settembre con tanti spettacoli gratuiti ma con prenotazione obbligatoria su www.medfestlombardia.com dove è anche possibile consultare il calendario completo degli eventi. Grazie a tutti!